No, assolutamente, tra l'altro Sinistra Ecologia e Libertà, io sono anche relatore di minoranza di questa legge, ha ritirato l'emendamento che in un certo senso qualcuno aveva fatto girare sulla stampa come il cosiddetto salva sello, il punto non è questo, il punto è che è una legge assolutamente incostituzionale che non prevede le preferenze e che oggi ci si rende conto che per tutti i partiti praticamente, tant'è vero che è stato cambiato l'algoritmo di calcolo come dicevo prima con il nuovo sub-emendamento ma io già ho visto che anche con il nuovo algoritmo e con il nuovo metodo di calcolo ci sarà essenzialmente un metodo random per decidere in quale collegio verrà eletto e chi e quindi adesso si tenta di poter inserire le pluricandidature, le pluricandidature servirebbero solamente a garantire i soliti garantiti, l'elezione sicura in Parlamento. È chiaro che questa è un'altra porcata che noi dobbiamo evitare di permettere perché questo significherebbe stracciare completamente la sentenza della Corte Costituzionale perché il cittadino non solo si troverebbe di nuovo le liste bloccate e senza la possibilità di esprimere una preferenza ma in diversi collegi d'Italia si troverebbero gli stessi candidati e quindi poi in base alla loro opzione verrebbe eletto Tizio Caio e il voto del cittadino sarebbe assolutamente dato come un messaggio dentro la bottiglia in un'isola deserta lanciato così per se qualche naufrago può o meno prenderlo. Quindi noi dobbiamo assolutamente evitare questo e così allo stesso modo noi dobbiamo fare una battaglia per la rappresentanza democratica in questo Paese perché c'è bisogno che il giorno dopo le elezioni si sappia chi governa ma non c'è bisogno che il giorno prima delle elezioni già si sappia chi è eletto. Questa è assolutamente una cosa che noi non possiamo permetterci più perché l'Italia deve essere un Paese democratico dove i governi e i propri rappresentanti li scelgono i cittadini e non le leggi elettorali.